Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Sono molto felice di parlare con voi di una serie che ho scoperto da pochissimo grazie a Netflix, anche se è una serie comunque del 2013. Sto parlando di Derek, di e con Rick Gervais. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, dateci un'occhiata, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che amano questa serie e di commentare se l'avete vista anche voi, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, o se non l'avete ancora vista, così magari vi convinco ancora di più a vederla. Perché vi devo convincere a vedere questa serie? Perché è davvero la serie attualmente su Netflix che credo abbia più cuore tra tutte le produzioni che potete trovare all'interno. E la cosa inaspettata è che viene da Rick Gervais. Rick Gervais, per chi non lo conoscesse, è un comico inglese, britannico, che anche a livello internazionale ha fatto molto parlare di sé per, per esempio, le ultime presentazioni degli Oscar. Se vi interessa sapere il livello di comicità, di black humor, di politicamente scorretto, tipico di Rick Gervais, vi metto magari qui da qualche parte o in descrizione il suo intervento agli Oscar, alla nota degli Oscar, e vi consiglio anche sempre in descrizione di vedere un altro suo spettacolo chiamato Humanity, che anche questo è presente su Netflix. Così vi fate un'idea di quanto il suo umorismo è tagliente, il suo umorismo è politicamente scorretto e di come ci voglia far capire che dobbiamo iniziare a smettere di essere gli analfabeti funzionali della comicità e imparare a scindere l'argomento trattato con ironia per esorcizzarlo dall'argomento stesso. Una frase tipica della sua filosofia di pensiero sul suo tipo di umorismo la trovate sul suo account Twitter e dice Gli idioti trattano le battute su le cose brutte con la stessa paura e repugnanza con cui le persone intelligenti dovrebbero trattare le reali cose brutte. Quindi da un comico del genere mi sarei aspettato di tutto meno che una serie tv con così tanto cuore, così tanto sentimento, così tanta umanità nel senso più alto del termine. Addirittura quando stavo facendo un zapping tra le serie nuove da scoprire su Netflix ho visto questo Derek, ho solo visto che era una serie inglese che parla appunto di un inserviente di una casa di riposo londinese che non è né intelligente né bello ma è gentile. E ho visto anche questo attore con questa faccia un po' strana e volevo capire cosa intendessero con il fatto che non è intelligente se era davvero un disabile o se era semplicemente un po' goffo e allora sono andato a indagare scoprendo poi che appunto era questo protagonista nonché autore stesso della serie era Rick Gervais e lì mi si sono subito alzate le antennine non è che Rick Gervais si mette persino a prendere in giro la disabilità piuttosto che le persone anziane o queste cose qui quindi andiamo a scoprire questa cosa quindi sono andato quasi a cercare la, non dico la polemica però ero un pochino preoccupato che comunque un comico così intelligente ma molto tagliente, molto politicamente scorretto trattasse un argomento così delicato in modo fastidioso in modo cattivo che potesse urtare la sensibilità delle persone che vivono questa situazione e invece ho scoperto un lato di Rick Gervais che non conoscevo, comunque che non mostra normalmente nei suoi numeri comici quantomeno in quelli brevi che è appunto la sua grandissima umanità il fatto che lui abbia questa visione di come le persone come Derek in questo mondo rendano il mondo un posto migliore nella loro semplicità perché hanno meno preoccupazioni e si occupano delle cose importanti cioè di essere felici e di fare felici le persone che hanno intorno come dicevo è ambientato in una casa di riposo ci sono un sacco di personaggi appunto di età molto avanzata si parla di una media di 85 anni come loro stessi dicono e poi ci sono i quattro protagonisti principali che sono Derek appunto questo autistico non diagnosticato lo definiscono che è un uomo di 49 anni interpretato appunto da Rick Gervais poi c'è la responsabile di questa casa di riposo che è Anna che è l'unica persona sana anche a livello sociale nel senso che riesce a interagire con gli altri in un modo non malato, non disturbato e sta cercando comunque un uomo con cui passare la vita e poi ci sono l'inserviente Dagi il tuttofare quello che si occupa della manutenzione della casa di riposo e l'amico di Derek, Kev che per qualche strana ragione è amico di Derek nonostante sia un nulla facente che passa le sue giornate in casa di riposo a far compagnia a Derek semplicemente perché non ha altro da fare non ha un lavoro è perennemente ubriaco è un malato di sesso nel senso che tutto ciò che si muove sente il bisogno di commentarlo a livello sessuale per mostrare quanto lui pensi costantemente al sesso dalla mattina alla sera e non è nemmeno in casa di riposo a dare una mano è semplicemente lì a occupare una sedia grazie all'infinita bontà di Derek grazie all'infinita bontà di Anna o quantomeno dell'infinita stima che Anna prova per Derek questo personaggio Kev non è mai stato cacciato da questa casa di riposo ma quantomeno la presenza di questi comprimari serve all'attore Rick Gervais a sfogare diciamo le sue vene comiche più taglienti non potendole sfogare nel personaggio di Derek che appunto è di una semplicità e di un cuore totalmente aperto rispetto agli altri che invece sono o un po' più cinici o davvero più semplicemente delle persone molto più brutte rispetto a Derek quindi non mancano i momenti comici non manca la comicità tipica inglese non manca la comicità tipica di Rick Gervais che però non troverete uscire dalla bocca del comico ma magari troverete nelle situazioni che si creano oppure uscire dalla bocca dei personaggi che ruotano attorno a Derek ciò nonostante il fattore più preponderante di questa serie non è il lato comico ma è il lato commovente a ogni puntata ci si commuove tantissimo quantomeno io che anche per vissuto mio personale ho un'esperienza abbastanza diretta con questo tipo di realtà ho avuto un'esperienza diretta ho un'esperienza diretta con questo tipo di realtà ogni episodio mi ha fatto davvero piangere come un bambino io non piango facilmente nella vita fuori da Netflix però a volte questi telefilm servono anche ad aprirti una valvola di sfogo per farti lasciare andare e credo che più che mai in questo periodo di quarantena in questo periodo anche di stragi, di morti che sono avvenute a causa di questa pandemia che si sta dilagando vedere una serie come Derek che ci fa riscoprire cosa davvero conta fondamentalmente nella vita cioè il donarsi agli altri, l'empatia tra le persone, l'umanità tra le persone sia la serie adatta da vedere in questo periodo ve la raccomando tantissimo purtroppo, appunto come dicevo, è una serie del 2013 è una serie composta da sole due stagioni sono episodi di 20 minuti girati con il metodo del falso documentario ovvero c'è una videocamera, c'è una finta troupe che noi non vediamo mai ma è tipo The Office per intendersi di cui tra l'altro Gervais ha creato il formato originale inglese c'è questa troupe finta che riprende le vicende all'interno della casa di riposo addirittura le persone all'interno della casa di riposo si rivolgono, stile grande fratello alla troupe delle clip separate su come hanno passato determinate esperienze o determinate giornate la videocamera non è una dolly quindi non è fluida ma è proprio, vedete la videocamera che si muove per dare proprio l'idea del documentario ma in realtà un documentario non è è un telefilm è un pochino come Scrubs l'utilizzo della videocamera singola con la differenza che Scrubs invece aveva una dolly cioè aveva una videocamera che non sballottava invece qua sballotta proprio per dare più un senso di documentaristico stile Blair Witch Project gli episodi sono di 20 minuti anche qui come Scrubs sono episodi molto corti quindi potete fare un binge watching in un giorno intero e ve lo godete l'unica pecca appunto io vi raccomando di non farlo perché probabilmente ve lo gustate troppo innanzitutto se vi commuovete come me a ogni episodio arrivate a fine della prima stagione che siete devastati io l'ho visto davvero sono stato aperto in due volevo fare la recensione subito a caldo ma ho aspettato qualche giorno perché poi ho avuto un'ulteriore botta scoprendo che appunto ci sono solo due stagioni e che quella che Netflix definisce terza stagione contiene un solo episodio non perché la terza stagione debba continuare ma in realtà non è una terza stagione è semplicemente uno speciale che hanno girato nel 2014 mi sembra per diciamo un po' chiudere il cerchio di questa storia di questi comprimari quindi purtroppo questa splendida serie che ho scoperto è già bella che è finita quindi un'ulteriore mazzata a metà metà narrativa me la sono beccata quindi mi raccomando guardatevela godetevela ma guardatevela con calma assaporatevela magari guardatevela prima di andare a dormire vi guardate un episodio al giorno da qua in poi dovreste godervela al massimo bene grazie come sempre per avermi seguito fino alla fine di questo video il prossimo video uscirà brevissimo perché oggi oltre a essere Pasqua è anche l'anniversario facciamo un anno di questo canale YouTube quindi usciranno molti video a cadenza regolare durante tutta la giornata di oggi più anche delle live in serata quindi rimanete sintonizzati se siete interessati io vi voglio lasciare con una frase del personaggio di Derek che dice se vuoi andare veloce vai da solo se vuoi andare lontano vai insieme come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti